Certamente la vicenda dei rimborsi ai cosiddetti risparmiatori truffati ha creato del malumore all'interno del governo. Lo scontro in atto tra il Movimento 5 Stelle e il ministro dell'economia Tria poi è certamente andato oltre i normali limiti fisiologici del dibattito politico. Chiarisco subito che personalmente non sono un grande fan del ministro Tria, una persona che ho trovato debole ed insicura soprattutto quando ha dovuto trattare con Bruxelles e Francoforte. Tuttavia, indipendentemente dai torti e le ragioni sulla questione del contendere, cioè se questi rimborsi devono essere accelerati o meno, quel che mi sento di dire è che il Movimento 5 Stelle, o meglio Gianluigi Paragone, hanno utilizzato dei metodi che personalmente non approvo. Perché delle due luna o il ministro Tria non c'entra assolutamente niente in questa storia dell'abbugno e sia ben chiaro che io non penso che sia così, oppure appunto c'entra, come ritengo che sia, però allora questa vicenda era già a conoscenza del Movimento 5 Stelle, perché non l'aveva resa pubblica in precedenza? Cioè, se l'era tenuta nel cassetto come arma di ricatto, appunto, nei confronti del ministro, qualora lo stesso non avesse poi dopo esaudito tutti i desideri del Movimento 5 Stelle, questo metodo di operare è tutt'altro che il governo del cambiamento, insomma. Queste sono cose vecchie come Noè, tipiche di un'altra stagione politica, insomma. quindi, ripeto, personalmente ritengo che il Movimento 5 Stelle nella sua campagna acquisti andando a comprare, per modo di dire, ma l'ex direttore del giornale La Padania non penso che abbia fatto un grande acquisto. Una persona che utilizza questi mezzi, insomma, il classico giornalista abituato al dossieraggio. Io capisco anche che tra non molto ci saranno delle importanti elezioni, sono elezioni importanti per tutti, sia ben chiaro, cioè per tutti i partiti le elezioni europee saranno un banco di prova importante. Però per il Movimento 5 Stelle saranno quasi elezioni decisive. Per cui, ripeto, capisco che muovendo le acque magari si cerca di andare a raccattare dei voti in qualche frangia della popolazione. Quello che però mi chiedo è che nella stessa maniera non si vadano magari a perdere un numero superiore di voti in altre frange della popolazione. Quindi io la sensazione che ho è che gli italiani, in larga maggioranza, vogliono che questa esperienza di governo continui e continui ancora a lungo. Però non amano le liti interne, cioè gli italiani sono stufi delle diatribe all'interno delle compagini governative, le hanno subite per decenni e vogliono un governo del cambiamento, ma del cambiamento vero.